Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 24 agosto 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo cancro. Giornata più no che sì. Giornata modello referendum, ma più no e sì. I no vi derivano dalla luna retina allo zenit, dunque in positiva riguardo ai vostri progetti, insolitamente vivaci rispetto al solito. Tutti progetti appunto, perché in fase esecutiva con Marte e giovani influenti, persi nella biocco non realizzate granché, ve la pigliate con il mondo dimenticando invece che la molla delle vostre sconfitte siete ancora a voi. Carezze e blandizze e consolatori da qualcuno che vi vuole bene, una persona molto vicina, un parente, un amico o magari chi vi corteggia senza che ancora ve ne siate resi conto. Su via non avrete realizzato il vostro sogno ma in compenso vi siete guadagnati la stima e l'affetto di qualcuno che non perderà a dichiararsi, parola di venere in se stile. E quando la bella dal segno amico della Vergine si decide ad aprire bocca le sue non sono parole evacue, a quel che dice ci crede davvero e ve lo dimostrerà con i fatti. Un rapporto che si basa esclusivamente sulla fisicità senza nessuna base di amore e di affetto. Nella coppia non c'è stima, c'è inganno, c'è rischio di essere ingannati. Attrazione fisica nel rapporto, un partner carismatico, magnetico ma che non ama. Inganni nella coppia, incertezze, tra bocchetti di rivali, tradimenti, menzogne e bugie. I rapporti a due cattureranno tutta prima tua attenzione. Una sorpresa. Allegria. Un invito da accettare. O cappa l'amore e i rapporti con i figli. Qualche telefonata in arrivo non servirà a tranquillizzarvi circa una questione che vi preoccupa. Aiuti inaspettati da un'amicizia a cui tenete particolarmente. Supposizioni. Ecco cosa sono le congetture che negli ultimi tempi avete fatto sul conto di alcune persone che vi sono vicine. Sono gelosie ingiustificate e potrebbero rivelarsi addirittura dei giudizi sommari e affrettati se non cambiate il vostro metro di misura. Gli amanti clandestini potrebbero essere scoperti, soprattutto quelli nati lunedì e il venerdì. Ponete attenzione con chi vi confidate. Sarai attivo, svelto, loquace e particolarmente curioso. Buone notizie. Possibili guasti all'auto. Soddisfazione se sei un artista o hai a che fare con il mondo artistico. Incontri interessanti. In amore risulterai molto superficiale. Non prendere impegni se non sei sicuro di poterli portare a termine. Oggi fate in modo da compiere un'opera buona o una piccola carità. Ricordate che fino a quando regaliamo piccole gioie ne riceveremo in cambio tante altre, decuplicate. Forti soddisfazioni in famiglia e tra parenti. Contatti con medici, avvocati e astrologi. Soddisfazioni prossime in arrivo. Fate operare un controllo all'auto anche se avete l'impressione che tutto funziona alla perfezione. Possibile smarrimento di chiavi o documenti. Siate prudenti oggi in ogni cosa che farete. Venere, vostra dea madrina zodiacale, forma uno splendido aspetto con il vostro segno dalla Vergine e vi dona una bella verve intellettuale accompagnata da senso dell'umorismo. In famiglia il vostro carattere conciliante e sensibile vi aiuta a mettere in chiaro alcune situazioni lasciate in sospeso che avevano generato recenti equivoci. E come sempre riuscite a trasformare una questione che sembrava non superabile in un'occasione di crescita e di evoluzione. Giornata no questo sabato, soprattutto se siete ancora in vacanza ma pronti a fare valigia e a partire, immaginatevi con quale voglia. A parlare per voi Giove imbronciato in dodicesima casa insieme a Marte in gemelli in conflitto con la dolce Venere che dalla Vergine vorrebbe ancora proseguire la vacanza e continuare a fare micio micio con chi sapete voi. Invece no, il dovere chiama tutti quanti, chi è già a lavoro e chi ancora se la spassa, con la voce stridula in positiva della luna in ariete, nel punto più alto del vostro cielo, ricordandovi che, con tutto quello che avete speso e Mercurio fa testo, ora bisogna rimboccarsi le maniche e rimpolpare il gruzzoletto. Prima di finire sotto con un rosso pericoloso. Amore ed Eros. L'amore vuole tutto, tenerezza, carezze, promesse, facile se vivete già insieme e siete una coppia unita e complice, ma se la storia è appena iniziata, in un impeto di passione, ora sentendovi messi alle strette non sapete più da che parte guardare, cosa dire, cosa fare, insomma come comportarvi. La genitrice Brontolona spalleggiata dalla suocera critica tutte le vostre scelte e le vostre mosse, meno male che i membri più giovani della famiglia, e soprattutto l'amato bene, invece vi spalleggiano, prendendo smaccatamente le vostre parti. La luna ostile dal segno della riete vita all'ona, specie se festeggiate il compleanno dal 2 all'11 del mese di luglio, mettendovi alla prova, saggiando la forza dei vostri sentimenti autentici. Se una passione è fiorita durante l'ultimo mese, è adesso arrivato il momento di farla maturare, mettendoci l'impegno e il senso di responsabilità che occorrono per permetterle di andare avanti. Non vi lasciate prendere dal senso di inadeguatezza o dalla paura di non farcela. Lavoro e denaro Capo imperioso quest'oggi, vi pungola di continuo, ricordandovi che ormai siete rientrati al lavoro e dunque lavorare bisogna. Non è colpa vostra se vi sentite così spappolati, demotivati, stanchi come se le vacanze non fossero mai nemmeno esistite. In mente solo un pensiero, la serata che vi aspetta con una persona speciale magari fuori città o il viaggio che effettuerete per tornare al mare o in montagna per un altro weekend di relax e aria buona. E ne avete davvero bisogno. La rapidità e l'efficacia con cui conducete l'intera operazione vi portano a guadagnarvi il sincero apprezzamento di un vostro collega di lavoro. Urano nel segno del toro, amico dei cancerini della terza decade, guida nella professione i loro passi. Trovate un escamotage, che vi aiuta a cavarvi da una situazione particolarmente imbarazzante che si viene a creare in ufficio. Benessere. Un filo di emicrania a effetto della stanchezza e della calura cittadina la quale, dopo un soggiorno in montagna o all'estero, non siete più avvezzi. Ecco la ragione della vostra stanchezza, dell'insofferenza e dell'inappetenza. Ma aspettate di uscire di città stasera o di rilassarvi un po' lasciandovi alle spalle questa settimana così complicata e di colpo vi ritroverete sereni e a vostro agio. E il mal di testa? Sparito come per magia. Per lei, serata goduriosa tra amiche, magari anche tutto il weekend. Se avete avanzato qualche soldino avrete il piacere di chiudere le vacanze in bellezza, nulla di più azzeccato di questa soluzione, mare naturalmente, è lì che ci si ricarica e si fanno belli incontri. Per lui, chiusi a riccio in casa, in famiglia lo scontro è garantito, ma fuori diventate un altro, empatico, interessante, romantico. Ecco perché tutte vi rincorrono. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 4, finanze, 10, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.